Adriana Volpe e Giancarlo Magalli insieme a Verissimo. Pace fatta dopo le polemiche. Oggi, domenica 27 ottobre, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli saranno ospiti di Verissimo, dove hanno seppellito l'ascia di guerra e fatto pace dopo varie controversie anche legali. La conduttrice ha rivelato di aver trovato un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con l'imprenditore Roberto Parli, ma non ha voluto svelarne l'identità. Durante un'intervista a Diva e Donna, Adriana Volpe ha parlato del suo nuovo amore, una persona che si è avvicinata a lei con rispetto e che sta conquistando il suo cuore giorno dopo giorno. Dopo la fine del matrimonio con Roberto Parli nel 2020, la conduttrice ha vissuto un periodo di chiusura emotiva, ma ora si sente una persona nuova. Adriana Volpe ha sposato Roberto Parli nel 2008 e dalla loro relazione è nata la piccola Giselle nel 2011. Tuttavia, la storia è finita nel 2020 a causa di presunti maltrattamenti in famiglia da parte dell'imprenditore. La conduttrice ha deciso di tutelare la figlia Giselle e di non esporla mediaticamente. Prima di Roberto Parli, Adriana Volpe ha sposato Chico Cangini nel 2000, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi. La conduttrice ha avuto una lunga carriera televisiva che l'ha vista condurre programmi come i Fatti Vostri e partecipare a reality show come il Grande Fratello Vip. Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono riappacificati e saranno ospiti di Verissimo per raccontare la loro storia e le novità della loro vita. Se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e...